Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Bentornati alla nostra Ucronia, al nostro mondo alternativo di Orbis, in cui proviamo ad immaginare che cosa sarebbe successo se l'impero romano fosse sopravvissuto, se nel 476 d.C. Giulio Nepote fosse tornato sul trono di Roma, scacciando ovviamente Romolo Augustolo, e avesse cambiato la storia del mondo. Definire tutto questo una storia alternativa credo sia quasi ormai più corretto che definirlo un'Ucronia, perché ormai non c'è nulla più di reale, credibile, è passato troppo tempo, è impossibile immaginare qualcosa che potesse realmente accadere, ma è ormai una storia alternativa che abbiamo creato tutti insieme, una storia alternativa che con questa puntata in cui racconteremo due anni, il 2001 e il 2002, ci accompagnerà addirittura nel terzo millennio, dopo averlo sfiorato nella scorsa con l'anno 2000. Ho di nuovo rallentato un pelino, abbiamo fatto tre anni la scorsa settimana, questa volta ne facciamo due, perché come vedrete di avvenimenti ce ne sono, e soprattutto ci sono alcune cose che dovrete decidere voi per dirmi come andare avanti. Quindi, bando alle ciance, un grandissimo ringraziamento come sempre ai ragazzi della Wiki, che curano le mappe che vedete durante la puntata, e che curano soprattutto la Wiki, che è un buon posto se volete andare a recuperare informazioni sulla lunga storia di Orbis. Per il resto, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla, e poi iniziamo a raccontare. Con la nostra storia per una volta partiamo dalla Repubblica. C'è stato un tempo in cui partivamo sempre da Roma, invece ultimamente partiamo sempre da altri stati, forse perché fortunatamente la Repubblica Romana è abbastanza pacifica. Nel 2000, alla fine del 2000, come avete visto nella scorsa puntata, è morto Napoleone IV, princeps della Repubblica, e la cosa, terminato il periodo di lutto, ovviamente il funerale e poi il periodo di lutto, ha lasciato un grosso interrogativo su chi dovesse succedergli. In effetti la scelta più naturale sarebbe quella del figlio, Napoleone Vittorio, che però è allo stesso tempo anche sposato con Livia, che è colei che dovrà succedere al titolo imperiale a Nuova Terra, ed è quindi difficile pensare che Livia possa vivere da una parte dell'Atlantico e il marito dall'altra. Per questo si erano poste varie possibilità. Qualcuno diceva di far nominare princeps qualcun altro della famiglia, un cugino, l'esempio di Napoleone Vittorio, qualcun altro diceva di far nominare come princeps la giovane Alessia, la figlia di Napoleone Vittorio e di Livia, la principessa che verosimilmente un giorno gli dovrà succedere, che però nel 2001 aveva ancora solamente 13 anni ed era difficile che potesse avere una carica di questo genere. Alla fine però Napoleone Vittorio, come aveva già annunciato in passato, spazza via qualunque dubbio, e annuncia di voler raccogliere su di sé la carica di princeps. Dato che però sa benissimo che i suoi impegni lo potrebbero tenere lontano dalla Repubblica, afferma di voler condividere una parte del potere e anche una parte degli oneri con altri membri della famiglia, in particolare con un cugino, Luigi Napoleone, il quale senza avere un ruolo specifico, se non quello appunto di aiutante speciale del princeps, in realtà vedrà negli anni successivi vedere delegate a lui molti dei compiti. L'obiettivo fin dall'inizio è quello in realtà di accompagnare in questi anni l'evoluzione della Repubblica, preparando in realtà poi la figlia Alessia a prendere il posto di Luigi Napoleone, che diciamo è una persona assolutamente molto tranquilla e che accetta di buon grado di aiutare il cugino senza grosse velleità di potere, ma di preparare in realtà Alessia un giorno a diventare lei, colei che sostituisce il padre in caso di necessità. Peraltro Alessia a 13 anni accompagna il padre nella Repubblica, ovviamente la famiglia viaggiava da una parte all'altra dell'Atlantico, ma poi qui si ferma, proprio per iniziare a creare un legame con quello che verosimilmente un giorno sarà il paese che governerà. A 13 anni entra in un prestigiosissimo collegio di Roma, dove avevano già studiato il padre, il nonno, il bisnonno, quindi insomma un po' una tradizione di famiglia, e in questo prestigiosissimo collegio inizia la sua formazione in mezzo ai figli di molta della nobiltà e della ricca borghesia della Repubblica. Peraltro la giovane Alessia, che pare sia molto molto bella, pare che abbia ereditato alcuni tratti dalle nonne che erano entrambe molto molto belle e insomma inizia a far battere qualche cuore, Alessia, proprio perché ora è stabile all'interno della Repubblica, diventa un personaggio molto conosciuto. Le sue immagini rimbalzano su vari giornali del paese e alcuni iniziano a farsi avanti come possibili pretendenti un giorno per il suo cuore, anche se lei in questo momento non sembra mostrare particolare interesse nella cosa, anzi, bisogna dire, molto Ligia al dovere familiare, forse educata fin da bambina ad un ruolo decisamente importante, almeno in questa fase sembra mostrarsi molto interessata allo studio, all'equitazione, pare che stia diventando un'eccellente cavallerizza, dopo tutto in passato c'erano stati altri membri della famiglia reale che avevano mostrato queste qualità e a poco altro. Però, insomma, sta diventando un po' un personaggio pubblico e se quando si trova nell'impero la stampa, seppur non più censurata e ancora abbastanza rispettosa della famiglia imperiale, nella Repubblica c'è maggiore libertà e i paparazzi tendono ad utilizzarla, questa libertà. Se ci spostiamo poco lontano dalla Repubblica, nella parte più orientale del Mediterraneo, in effetti l'inizio del 2001 ha visto delle elezioni che furono molto, molto importanti per la Repubblica di Grecia, quella comunista. All'interno di queste elezioni, in effetti, c'era una proposta di rinnovamento. Antonio Pedio, che già da molti anni governa la Repubblica comunista e già da molti anni aveva iniziato un processo di rinnovamento, nel tentativo di accelerare questo processo di rinnovamento aveva lanciato nuove elezioni col desiderio di spazzare via la vecchia nomenclatura comunista e avviare la Grecia comunista verso quel rinnovamento che già era stato avviato invece nell'Inghilterra di Major. Le elezioni però furono molto combattute, furono molto combattute perché in effetti, soprattutto nel Levante, molti erano fedeli alle vecchie idee comuniste, senza contare che dal punto di vista economico lo stato della Grecia comunista era decisamente meglio avviato rispetto all'Inghilterra. Alla fine, come ampiamente previsto da molti che avevano fatto dei sondaggi, a fare dago della bilancia sono quei greci provenienti dalla Repubblica Greca, quindi quella più occidentale, la Grecia attuale vera e propria per intenderci, i quali trasferitisi nella Grecia comunista per motivi di lavoro e presa la cittadinanza, cosa possibile, dati gli accordi fra i due stati, avevano votato in massa per Pedio, il quale aveva fra le righe fatto sapere che in caso di sua vittoria sarebbe tornato a spingere per una maggiore integrazione fra i due stati. E così fu. In effetti Pedio, con il 54% dei voti, riuscirà a portare a casa il governo, ma soprattutto riuscirà a portare a casa la stabilità del paese, perché nelle ore immediatamente successive all'annuncio della sua vittoria qualcuno temette un possibile controcolpo di Stato. Vennero viste delle camionette dell'esercito spostarsi in molte città, ma alla fine venne fuori che questi in realtà si erano mosse proprio nel timore di un colpo di Stato, dimostrando come l'esercito, più che al partito da cui derivava, fosse in realtà fedele allo Stato e alla sua stabilità. E questo forse fu un'investitura ancora più grande per Pedio. Così come aveva promesso, in effetti nella seconda metà del 2001 e poi nel 2002, Pedio tornò a parlare molto con la Repubblica di Grecia, con cui già c'erano stati dei contatti, e soprattutto a proporre una maggiore integrazione tra i due stati, anche senza parlare ancora di una vera e propria fusione politica. Cosa che in effetti potrebbe in qualche modo avvantaggiare la Repubblica di Grecia, che da quando è sorta si trova costantemente ad essere più povera rispetto ai vicini comunisti, ma soprattutto anche molto più instabile dal punto di vista politico. In effetti, da punto di vista industriale e della crescita, la Repubblica di Grecia paga una grande carenza di materie prime, nonché pochi investimenti, e alla fine la sua economia si regge quasi completamente sulle rimesse di quegli immigrati che si spostano come pendolari o fissi a lavorare nella Grecia comunista oppure all'interno della Repubblica. L'instabilità politica poi ha portato, pensate negli ultimi cinque anni, all'alternarsi di ben quattro governi diversi, con il risultato che la situazione è molto, molto complessa. Pedio però decide di lavorare, come dire, un po' dietro le quinte e per farlo inizia ad avvantaggiare, a mandare aiuti economici, ovviamente abbastanza mascherati, sia allo Stato greco, questi ovviamente non mascherati, quanto soprattutto al Partito Socialdemocratico greco, che ufficialmente non è proprio uno Stato comunista, anche se si rifà i partiti comunisti europei, come quello repubblicano o quello olandese, che ormai di comunista hanno, diciamolo pure, molto poco, e che potrebbe diventare un po' la lunga mano di Pedio all'interno della Repubblica greca. Presto ci saranno nuove elezioni, nel 2004, e bisogna vedere chi le vincerà e in che direzione vorrà andare. Va decisamente meglio, invece, dal punto di vista economico, la situazione della nuova Repubblica Rus, Repubblica federale dei Rus, la quale, guidata da Petrov, in questi anni sta conoscendo una buona crescita economica. Buona crescita economica sostenuta soprattutto dalle materie prime. Con molte economie in crescita, e con tutta la parte dell'Asia orientale, che è ancora una produzione bassissima, che quindi non immette sui mercati internazionali, i territori dei Rus, insieme all'Africa, rimangono i principali produttori di alcune materie prime, che stanno iniziando ad essere molto utilizzate, grazie alla crescita del comparto informatico, di cui però parleremo più tardi, verso la fine della puntata. Questi soldi vengono in realtà utilizzati da Petrov per cercare di stimolare la crescita economica anche in altri ambiti decisamente più moderni, e nonostante la situazione difficile in cui si trova ad operare a causa di un sistema molto incancrenito in una serie di oligopoli nati ancora all'epoca dell'impero, nonostante questo, in questi anni riesce a fare molto. E riesce a fare molto grazie anche ad una riforma della giustizia proposta proprio all'inizio del 2001, che dà maggiore libertà ai magistrati di operare, offre loro molta più libertà, e a un vero e proprio pool di giovani magistrati che in questi anni fanno ricerche e attaccano molti dei capi di questi oligopoli, molti dei quali vengono accusati di aver in passato collaborato con i figli di Maria, di aver partecipato ad attacchi massacri, anche se bisogna dire che talvolta le accuse sono un po' costruite, nel senso che ai tempi dell'impero chiunque a tutti gli effetti aveva connessioni con i figli di Maria, anche lo stesso Petrov, ma questo diciamo che lo mettiamo da parte, ma grazie a queste accuse che fanno sì che alcuni accusino Petrov di essere troppo direttivo e di stare accentrando un po' troppo potere nelle sue mani, ma grazie a queste accuse molti di questi gruppi, grossi gruppi industriali, vengono letteralmente smontati e questo agevola un ritorno alla maggiore concorrenza e alla crescita. Petrov, peraltro, dal punto di vista politico, in questi anni riallaccia molto bene i rapporti con dei vecchi alleati, cioè con la Bulgaria e la Bohemia, a cui propone una serie di scambi commerciali vantaggiosi, propone una priorità all'accesso alle materie prime dei Russe, e in cambio, soprattutto dalla Bohemia, riceve un travaso di tecnologie. La Bohemia negli ultimi anni si è aperta ad industrie provenienti dal resto, dall'Unione, come ad esempio dalla Longobardia, che ovviamente in Bohemia trovano una mano d'opera decisamente più a basso costo, e ovviamente una parte di queste tecnologie sono state assorbite. La Irus, acquistando anche alcune aziende strategiche in Bohemia, riescono a recuperare parte di queste tecnologie, che ovviamente è un vantaggio per le loro industrie, anche se diciamo crea un po' di malcontento in alcuni stati dell'Unione. Ma insomma, in questo momento in Europa si va abbastanza d'amore e d'accordo. Ovviamente non tutti nei territori Russe apprezzano questa nuova situazione, e nel maggio del 2002 Petrov scampa ad un tentativo di omicidio, quando dei colpi di pistola vengono sparati verso il podio da cui sta parlando, sopravvive in realtà per un semplice colpo di fortuna, dei fogli gli cadono, istintivamente si china per raccoglierli, e i colpi di pistola lo mancano veramente di pochissimo. Il tentatore, peraltro linciato dalla folla, non racconterò ovviamente mai chi sia stato ad averlo mandato. Nel 2001, peraltro, per precisa volontà dello stesso Petrov, iniziano ad essere diffuse immagini raccapriccianti, immagini che mostrano i campi di concentramento che erano stati creati in varie zone di territori Russe, in Siberia, ad opera della vecchia famiglia imperiale e dei figli di Maria. Campi in cui erano stati deportati oppositori, ebrei, semplici sospettati di essere contrari ai desideri appunto dei figli di Maria e della famiglia imperiale, campi in cui erano avvenute sevizie terribili. Prove che vengono diffuse anche per mostrare come stessero le cose e che ovviamente fanno un effetto enorme a livello globale. La cosa rimbalza anche a livello della Conferenza delle Nazioni, perché lo stesso Petrov, nella volontà di non voler nascondere nulla, e forse anche di mostrarsi come un cambiamento rispetto al passato, chiede alla Conferenza delle Nazioni di istituire un organismo internazionale che possa andare a scoprire tutti questi avvenimenti, cosa che in effetti dopo una serie di discussioni viene creata, creando un vero e proprio organo che si dovrà occupare di scoprire questi massacri nascosti. Le confessioni di Petrov scatenano una specie di effetto valanga, perché nei mesi successivi si inizia a parlare dei massacri fatti dagli inglesi nell'allora Mali, oggi Ghana, vengono riscoperti cumuli di ossa abbandonati laddove i locali venivano massacrati, si parla molto dei massacri fatti molto più recentemente dai puri in Cina, anche qui vengono scoperte fosse comuni, anche se è difficile distinguere quali siano i morti da bombardamento atomico, da quali siano i morti nel periodo dei puri, anche qua diciamolo, c'è un grosso aspetto politico, Deng Xiaoping ha piacere di mostrarsi diverso rispetto a loro, mentre invece crea un po' più di confusione la situazione in Cina, in Giappone invece, dove in effetti ci sarebbe molto di cui parlare nei territori coreani, ma dove il governo, forse un po' per rispetto alla famiglia imperiale, cerca di mettere tutto a tacere, dicendo che in realtà non vi sia più molto da scoprire, sia necessario che la nazione cerchi di trovare una pace interna, anche perché i colpevoli diretti ormai sono praticamente quasi tutti morti. La cosa però scatena molta indignazione, e a sorpresa scatena molta indignazione non solo tra i coreani, ma anche tra i giapponesi stessi, i quali chiedono al governo di essere più libero, aperto nel mostrare quello che è successo nel passato, fino a causare una caduta del governo, che peraltro viene addirittura screditato dal nuovo imperatore, che a sua volta si esprime favorevolmente affinché questi crimini vengano riportati. Nel corso della seconda parte del 2002, in effetti anche qui si inizia un po' ad aprire un vero e proprio vaso di Pandora. Già che siamo in Asia, in effetti di cose da dire ce ne sono parecchie. Nel 2001 si tengono finalmente le elezioni in Cina, elezioni che Deng aveva promesso, che sono state organizzate negli ultimi anni con tantissime difficoltà, alcune zone della Cina continuano ad essere abbastanza difficili da raggiungere, elezioni che in effetti vedono la nettissima affermazione del partito di Deng stesso, il quale guadagna la possibilità di controllare il nuovo Parlamento che si è creato, ma soprattutto guadagna la possibilità di scrivere la nuova Costituzione. Una nuova Costituzione che tende a essere molto accentrante il potere nelle mani del Parlamento. Parlamento che ottiene il diritto, meglio il suo capo di governo, ottiene il diritto di poter nominare i vari governatori locali, a tutti gli effetti sostituendo in alcune zone i governatori, la fiducia un po' dubbia, che erano al potere ancora da parecchio tempo, con governatori invece fedeli al governo, e in generale concede al governo centrale gran parte del potere. Un tentativo di accentrare il potere nelle sue mani, che a tutti gli effetti è stato ampiamente preparato negli anni precedenti, man mano che i suoi fedeli si sono diffusi per tutto il paese, cercando di creare questa rete politica che poi ha portato a questa grande affermazione alle elezioni. Inutile dire che a livello globale alcuni stati esprimono dubbi sulla democraticità di questa nuova Costituzione, ma c'è da dire che in effetti non giungono dalla Cina segni di particolari violenze, in effetti pare che il popolo stanco di questi lunghi anni di guerra apprezzi comunque il polso di Deng, il quale peraltro è abbastanza anziano da pensare e non ha figli maschi, quindi difficilmente lascerà direttamente la gestione del potere nelle mani di un suo successore, inoltre si pensa che chiuso questo stato d'emergenza forse le cose possano diventare un po' più democratiche. Ma in questo momento la Cina è in questa situazione potremmo dire un po' autoritaria, non veramente una dittatura, semplicemente un po' autoritaria. Ben diversa è ovviamente la situazione nell'impero cinese, nella Manciuria come viene chiamata da tutti, da cui in realtà non si sa praticamente nulla. La Manciuria, nonostante le proposte di aiuti giunti dalla Cina stessa, dove ormai, nonostante una popolazione nettamente calata, la produzione agricola è ormai ricresciuta abbastanza da fornire cibo a tutti, la Manciuria rifiuta qualunque tipo di aiuto. È diventato praticamente uno stato chiuso da cui originano pochissime informazioni. Affermano di non avere cibo per tutti, che ormai la situazione sia completamente ristabilita, molti si chiedono come questo possa succedere. E in effetti alcuni fuggiti dallo Stato, soprattutto nella zona di Pechino, raccontano invece di massacri, di un fortissimo indottrinamento, insomma di una situazione che molto positiva non è. Ma in questo momento nessuno ha intenzione di andare a mettere naso in quelle zone, anche perché i vicini, i russi, i cinesi e i giapponesi, i giapponesi coreani, hanno sicuramente altro di cui occuparsi. Ovviamente però la situazione più complessa rimane come purtroppo da molti anni all'interno della penisola indiana, dove sia nell'Industan che in India la situazione del 2001 non fa che peggiorare. In Hindustan, grazie all'appoggio dei Pashtun, le forze di Musharraf, dopo aver lanciato una violenta offensiva contro i territori ancora vissuti in cui vivono, ancora gli hindù provocando grossi massacri e averli ripreso pienamente il controllo, lanciano a metà del 2001 una offensiva anche verso i territori del Nepal e del Bhutan, penetrando dopo una durissima battaglia all'interno della piana, dove sorge Kathmandu, dove gli scontri si accendono tra aprile e maggio del 2001 e dove le forze di Musharraf riescono in maniera molto sanguinosa a riprendere il controllo della città, con le forze ribelli nepalesi che fuggono sulle montagne laddove non sono raggiungibili dalle forze di Musharraf. Anche in India la situazione si fa sempre più difficile, dell'offensiva nella parte sud-orientale del paese lanciata dai ribelli si rivela molto, molto sanguinosa e anche intorno alla stessa Bangalore le violenze continuano ad essere giornaliere. La cosa che però fa cambiare completamente tutta questa situazione è una malattia. Lo avevamo detto, già alla fine del 2000 iniziavano ad arrivare segnalazioni di casi di malattie tra gli animali, soprattutto tra gli uccelli, sia quelli migratori, che ancora di più tra i polli, nel pollame, ormai allevato ovviamente dovunque nel tentativo di avere del cibo, malattie che colpivano questi polli che teoricamente avrebbero dovuto essere bruciati, eliminati per evitare la diffusione del contagio, ma che in una situazione di fame così diffusa non è stato possibile fare. Il risultato è che a metà del 2001 iniziano ad essere segnalati i primi casi di influenza aviare, un'influenza che colpisce in realtà non moltissime persone, ma provocando molto spesso la morte, anche a causa della debilitazione dei corpi di molti, sia in India che nell'Industan. L'esplosione dei primi focolai in India fa pensare che questa possa essere limitata alla zona centrale del paese, ma già a giugno del 2001 e poi ancora a luglio ed agosto vengono segnalati focolai, nonostante difficoltà di avere informazioni, praticamente in tutta la penisola, da Delhi, dall'Industan fino a Bangalore, al Deccan e così via. Focolai che inizialmente fanno addirittura temere una mutazione del virus stesso che attualmente passa dagli animali verso l'uomo con il timore che potesse in effetti diffondersi da uomo a uomo. L'uscita di queste notizie crea ovviamente uno stato di panico generalizzato in tutto il mondo, con la popolazione globale che inizia a guardare letteralmente con sospetto qualunque animale, qualunque volatile, anche un po' malaticcio. C'è un crollo nel consumo di carni bianche, con ovvi effetti sull'economia laddove questi venivano prodotti, ma soprattutto c'è un gigantesco stato di paura a cui i governi devono rispondere informando che in realtà al di fuori della penisola indiana sono stati segnalati alcuni piccoli focolai tra gli animali in Afghanistan, in Iran e in Indocina che però non si sono poi diffusi. La situazione della penisola indiana invece diventa sempre più pesante e a peggiorare ancora le cose la notizia che la conferenza delle nazioni decida di stendere un vero e proprio cordone sanitario per evitare qualunque uscita con il divieto di importare o desportare qualunque tipo di animale e in generale in realtà un vero e proprio divieto di contatto con una quarantena. Quarantena che non fa nient'altro che rallentare l'aiuto dei rifornimenti, degli aiuti umanitari che giungevano fino ad ora alla penisola. Questa è un po' la goccia che fa traboccare il vaso. Alla conferenza delle nazioni si inizia a discutere di un intervento che viene definito letteralmente sanitario per cercare di impedire che questa infezione si possa diffondere. A peggiorare però la situazione nell'ottobre del 2001, l'11 ottobre del 2001 ci pensa un attentato. L'11 ottobre del 2001 il palazzo reale di Riyadh negli Emirati Arabi viene fatto esplodere da un attentato di Namitardo. I danni sono enormi. È stato introdotto all'interno del palazzo una quantità molto grande di esplosivo. Non si è capito bene come ciò sia stato possibile in quel periodo un'ala del palazzo stava venendo rinnovata. Si pensa che sia stato fatto entrare da alcuni degli operai che ovviamente avevano nascosto la loro affiliazione. Ma l'esplosione viene ben presto rivendicata dalle forze ribelli hindù che combattono al confine tra l'India e l'Industan le quali accusano gli Emirati Arabi di aver portato ad un accordo appunto tra gli afghani, Pashtun e Busharraf che tanto dolore sta causando invece agli hindù e ai buddhisti. La risposta rabbiosa nonostante non vi siano stati tantissime vittime si parla di una quarantina di morti da parte degli Emirati Arabi e quindi poi della Lega dei Fratelli Mussolmani li spinge ad aumentare o almeno tentare di aumentare gli aiuti militari verso l'Industan cosa che coglie di sorpresa la conferenza delle nazioni che invece stava discutendo di come cercare di fermare questo conflitto e porta per un'altra volta non succede così spesso ma era già capitato in passato le principali potenze globali a schierarsi sia l'unione da una parte che l'alleanza dei tre imperatori dall'altra che addirittura la stessa confederazione indiana anche se lì ci sono altri interessi poi ne parleremo a schierarsi apertamente contro la Lega dei Fratelli Mussolmani minacciando di imporre un vero e proprio blocco navale che impedirebbe il passaggio di armi verso la penisola indiana il braccio di ferro durissimo ci sono anche pare degli non scontri ma insomma truppe che si guardano in Cagnesco a livello del canale di Suez alla fine obbliga la Lega dei Fratelli Mussolmani ad abbassare ad abbassare i toni a ricevere il dolore di tutto il mondo per quanto avvenuto a Riad ma a rinunciare ai suoi propositi così guerra fondai una volta ottenuto questo vantaggio e creata una vera e propria coalizione la conferenza delle nazioni accetta di fornire quella che viene chiamata la coalizione di volenterosi il mandato di assicurare la stabilità sanitaria in India un termine molto molto vago che permette alla fine a metà chiedo scusa nel 2002 di organizzare una vera e propria missione umanitaria all'interno del continente indiano iniziando a far arrivare truppe inizialmente in India ma poi con l'idea di spostarsi fino all'Industan che non solo diano protezione ai medici mandati a cercare di curare queste popolazioni ma che soprattutto obblighino le varie fazioni a fermarsi questa volta realmente e a cercare un accordo di pace forse la conferenza delle nazioni è riuscita a fare un altro piccolo passo nel diventare un vero e proprio organismo internazionale certo il banco di prove nella penisola indiana è difficile ma tante nazioni appoggiano questa missione e chissà che veramente non si riesca a dare pace a questa zona abbiamo detto prima che l'Africa aveva interessi nella situazione nell'appoggiare questo blocco della lega dei fratelli musulmani perché la confederazione africana e almeno su questo sono d'accordo praticamente quasi tutti gli stati ormai finanzia apertamente i ribelli somali che continuano a scontrarsi contro le forze ottomane e che però grazie all'arrivo di massicci aiuti e qualcuno dice anche aiuti in termini di uomini da parte della confederazione africana riescono progressivamente a prendere il controllo di alcune zone del paese cacciando le forze ottomane e restringendo sempre di più il territorio mantenuto da questi la situazione in Somalia si sta facendo sempre più difficile per gli ottomani che ormai mantengono veramente solo il controllo di alcune città tra cui Mogadiscio e di alcuni porti ma che vengono sempre più schiacciati senza pensare che in Egitto ormai una parte della popolazione è apertamente schierata contro il continuo invio di truppe molto spesso truppe di leva in questa zona che non porta nient'altro che i lutti senza un vero risultato vedremo ovviamente in che direzione si andrà anche qui in questa terra così sfortunata ultima fermata la facciamo a nuova terra nell'impero dove alle elezioni del 2002 cade anche forse l'ultimo tabù politico quando un partito comunista un partito comunista romano che si rifà ovviamente all'eurocomunismo quindi diciamo più socialdemocratico guidato da Bernardo Sandro si presenta alle elezioni riuscendo a vincere un ricorso presentato davanti alla suprema corte dell'impero il quale concede al partito comunista che fino a questo momento era stato messo fuori legge e mai si era potuto presentare alle elezioni di poterlo fare i voti presi nonostante l'appassionata e gli appassionati discorsi di Bernardo Sandro sono in realtà pochissimi pare inoltre che l'imperatore Marco Antonio non abbia apprezzato così tanto la cosa ma insomma è forse anche questo un segno di come l'impero ormai sia molto più libero di quanto fosse solo fino a qualche decennio fa forse anche grazie a questo l'impero in realtà mantiene un suo controllo oltreoceano perché nel 2001 come previsto si tiene il referendum che avrebbe dovuto decidere per l'autonomia di Taiwan in effetti forse a far pendere in una certa direzione i voti è in realtà una serie di dichiarazioni come dire un po' fuori tempo fatte da Deng Xiaoping cinese il quale aveva affermato di sperare che l'indipendenza di Taiwan potesse anticipare una possibile riunione alla madrepatria cinese la cosa ovviamente che ad alcuni era sembrata quasi un po' una minaccia non era stata molto apprezzata da una gran parte della popolazione sia gli occidentali provenienti dall'impero sia i giapponesi molti dei quali continuavano a vivere sull'isola ma anche da una parte dei cinesi che in realtà preferivano rimanere con uno stato molto più ricco cioè l'impero con il risultato che alla fine le votazioni vedono un 60% della popolazione votare per rimanere parte dell'impero romano il quale però concede a Taiwan una larghissima autonomia praticamente diventa quasi un territorio autonomo all'interno dell'impero ma mantiene ancora formalmente il controllo e la protezione sulla zona l'ultimo punto e poi veramente ci fermiamo è quello della tecnologia tecnologia che in questi anni grazie ai massicci investimenti in ambito spaziale sta crescendo tantissimo sta crescendo tantissimo in tanti ambiti sta crescendo tantissimo negli ambiti della robotica sta crescendo tantissimo negli ambiti dell'informatica e gli effetti le ricadute anche sulle popolazioni sono molte sta crescendo molto e molto in anticipo rispetto alla nostra timeline dal punto di vista dell'intelligenza artificiale che vengono sviluppate insieme grazie anche alla crescita dell'informatica anche questa più accelerata grazie ai massicci investimenti statali queste intelligenze artificiali vengono sviluppate proprio per essere utilizzate nell'esplorazione spaziale con poi ricadute che non sono ancora giunte ma probabilmente giungeranno anche sulle popolazioni di tutta Orbis nell'esplorazione spaziale il 2002 vede il completamento finalmente della base lunare della base in orbita lunare una base che ha uno scopo ben preciso cioè quello di fare da una parte da hub per tutte le navette che giungono verso la luna e che scaricano rifornimenti verso la base invece sul suolo lunare dall'altra preparare possibili future spedizioni molto più lontano rispetto alla luna peraltro in questi stessi anni sta iniziata la costruzione di una seconda base orbitante intorno alla terra più grande più moderna rispetto a quella imperiale che ancora esiste una base che sta peraltro venendo costruita principalmente principalmente grazie a degli aiuti robotici che iniziano a lavorare proprio alle varie componenti con una gestione spesso da terra e questo ovviamente agevole abbassa molti costi della sua costruzione inoltre si è progettata una seconda base stabile sulla luna ora che l'espansione di quella che è stata costruita dall'Unione molto tempo fa non è più vantaggiosa gli ambienti non sono più abbastanza moderni si è iniziando a progettare una seconda base lunare questa volta molto più moderna e molto più ampia costruita ovviamente dal consorzio internazionale che ormai riunisce i paesi che partecipano alla corsa allo spazio peraltro in questo stesso anno per la prima volta un astronauta africano ospite di una navicella della Repubblica raggiunge per la prima volta la luna anche questo è un piccolo passo avanti nel fatto che l'esplorazione spaziale sia veramente globale nel 2001 una sonda una sonda lanciata verso Marte riesce per la prima volta a far scendere un piccolo robottino sulla superficie del pianeta rosso il robot raccoglie vari campioni mostra le prime immagini di un altro pianeta direttamente dalla sua superficie e qualcuno dice inizia a guardarsi intorno per una possibile missione con esseri umani che però non sembra essere così vicina anche se in molti ci stanno iniziando a pensare state mandate sonde verso Venere sonde verso l'estremo del sistema solare insomma l'esplorazione spaziale continua e gli investimenti in questo senso sono tanti e con questo io mi fermo mi fermo qua Orbis come sapete come abbiamo annunciato venerdì non va in vacanza la prossima puntata sarà domenica prossima ma ovviamente per scriverla ho bisogno del vostro aiuto quindi datemi delle idee su come continuare questa storia siamo arrivati fin qua tutti insieme chiudiamo questa storia tutti insieme ve l'ho detto Orbis non va in vacanza continuerò ad accompagnarvi anche nelle due settimane centrali di agosto anzi non la prossima non questa settimana che sta arrivando ma quella successiva faremo anche una live proprio per fare un po' il quadro di tutto il mondo in attesa di arrivare verso il finale avevo pensato di fare delle puntate ma sarebbero state troppe secondo me funziona molto meglio come live così potete anche fare magari qualche domanda per il resto un grandissimo ringraziamento ai ragazzi della wiki e un grandissimo ringraziamento ad abbonati patreon e a chi fa donazioni sul conto paypal perché anche grazie al loro sostegno questo canale riesce ad andare avanti e riusciamo a produrre nuovo materiale a disposizione di tutti questa volta ringrazio tantissimo Giacomo Moretti grazie mille tantissimo per il tuo aiuto e come sempre vi dico di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete curiosare tra qualcuna di queste storie qui a fianco ci delenco delle pidole uscite fino adesso noi ci vediamo presto non con una nuova pidola di storia ma con una live lo sapete ve l'ho già detto uscirà faremo questo martedì con Orbis invece ci vediamo domenica prossima a presto ciao ciao